L'avevamo vista a Francoforte e ora è pronta per il debutto nelle concessionarie. È la nuova i10, prima Hyundai di segmento A progettata, sviluppata e costruita in Europa, con caratteristiche ad hoc per la più esigente clientela occidentale. Più lunga, più ampia e più bassa, con spazi interni e praticità d'esercizio incrementati e livelli di comfort e sicurezza da segmento superiore, la nuova i10 si presenta con due motorizzazioni a benzina da 1.000 e 1.250 cm³ da 66 e 87 CV. Il piccolo 1.000 a tre cilindri sarà disponibile da fine anno anche in versione GPL. L'offerta Hyundai comprende anche l'esclusiva garanzia Hyundai Tripla 5, con chilometraggio illimitato che offre 5 anni di garanzia, 5 anni di assistenza stradale e 5 anni di controlli gratuiti.